E bentrovati ai giovani lettori di Gazzetta del Sud, oggi è mercoledì, un nuovo appuntamento con Noi Magazine, la presentazione dell'inserto che domani mattina sarà in edicola con il nostro quotidiano. Bentrovata anche a Natalia Larosa, un numero molto ricco quest'oggi e soprattutto vigilia di un avvenimento molto importante del quale parlerei immediatamente. Subito, Natalia. Sì, sì, infatti buongiorno Salvatore e a te tutti quelli che ci seguono. Domani il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi alle 11 in diretta YouTube sul canale di Gazzetta del Sud dialogherà con i nostri studenti. È un dialogo che però è già iniziato, infatti come hai detto tu, oggi in tutte le pagine, in tutte le edizioni, tante lettere ai nostri studenti si rivolgono al ministro, gli aprono il loro cuore. E noi vediamole subito perché in apertura di ogni inserto per le varie province dell'area di diffusione di Gazzetta del Sud ci sono queste lettere degli allievi dei vari istituti cittadini. Sì, sì, Messina, Reggio, Cosenza e Catanzaro Crotone e la Mezzia Vivo, le nostre quattro edizioni, davvero c'è il cuore e l'anima di questi ragazzi, dalle scuole elementari medie alle scuole superiori, ognuno per quella che è la sua sensibilità, apre il suo cuore e si racconta e racconta qual è la scuola che vorrebbe. Ma in molti anche, con questo grazie davvero, io l'ho ritrovato in tantissime lettere io e i colleghi e sono grati soprattutto per essere potuti ritornare in classe, in presenza. Vediamo qualche altra pagina dell'inserto che uscirà con la Gazzetta a Reggio Calabria. Sì, questo è uno sfunto bellissimo, l'Istituto Comprensivo Radice Alighieri di Catona, che ha incontrato appunto il campione olimpico, Barilla, lo hanno intervistato e ci raccontano come è stato questo incontro, un pezzo delizioso da leggere. E facciamo anche un salto a pagina 3 di Cosenza. Tutti i nostri studenti, ecco, li vediamo finalmente anche fuori, non solo in aula, ne sono felici, ma anche fuori dalle aule a svolgere tutti i loro, anche tutti i loro attentimenti pratici, le loro esercitazioni pratiche. Passiamo a Caranzara adesso. Sì, 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 infatti gli ITS è un percorso molto importante al quale tra l'altro il Ministero tiene moltissimo, far capire soprattutto ai ragazzi della terza media che davvero la scuola può trovare loro posto nel mondo del lavoro anche attraverso gli ITS, gli istituti tecnici superiori. Le consulte studentesche domani saranno con noi, solidarietà e impegno sociale, appunto qui l'Istituto Alberghiero di Soverato, che non mancano mai tra i nostri ragazzi. E qui infatti appunto i ragazzi del liceo Borrelli di Santa Severina, una serie bellissima eroi di carta, ci raccontano gli eroi dei miti classici e sono dei pezzi veramente, veramente profondi, commoventi. E poi abbiamo messina con il paginone centrale. Sì, sì, e domani abbiamo appunto tre pagine con tutte le lettere dei ragazzi, degli studenti. Ne sono arrivate tantissime, anche tantissime domande. Domani purtroppo per motivi di tempo soltanto alcuni istituti potranno dialogare con il Ministro, ma tutte le domande che ci sono arrivate, tutte le lettere, le trasmetteremo tutte e saranno poi tutte oggetto di attenzione e di lettura. E qua un articolo sul fatto che sono stati anche pubblicati i bandi governativi, le domande entro il 15 novembre, di cosa si tratta? Sì, sì, infatti questo è un annuncio molto importante. Il Ministero dell'Istruzione, questa è la settimana della rigenerazione, si apre proprio oggi, si concluderà dopo domani. Tutti i nostri istituti stanno lavorando sulla tematica dell'ambiente, ma non è soltanto un lavoro fine a se stesso, non lo sarebbe comunque. alle scuole e anche i fondi per rendere concreti i loro progetti. Capodorlando, c'è un istituto di Capodorlando che si occupa delle donne di ieri di oggi in cammino sulla via della parità. Sì, la figura femminile e la parità di genere in questo momento sono temi molto sentiti a tutte le età e ce lo raccontano sulle nostre pagine. L'istituto è comprensivo di tre mestieri, a scuola Martino, poi si parla anche di hacker con la parola al sociologo che non manca mai. Sì, il professore Marco Centorrino ogni settimana accende i riflettori su una tematica che riguarda la comunicazione e la sociologia, in questo caso fa riferimento all'attacco hacker alla CIA e con tutte delle valutazioni veramente molto interessanti. E qui è una rubrica che si apre, gli studenti del liceo Grisatta ci racconteranno l'agenda 2030, tutti i goal di questa appunto importante scala di priorità sulle quali tutti i nostri studenti stanno lavorando, ogni settimana avremo l'approfondimento di uno di questi 17 obiettivi. E qui diamo come sempre con la pagina dedicata agli Atenei dello Stretto, si torna in prevenza finalmente. Preziosissimi i redattori di Universo Me hanno svolto un lavoro veramente medicoloso, hanno sentito i loro colleghi, gli studenti dell'Università di Messina sulle emozioni, le sensazioni provate rispetto al ritorno in presenza, molto importante però senza trascurare comunque la risorsa digitale. Natalia abbiamo solo il tempo per ricordare ancora una volta gli orari per seguire domani la diretta alla quale interverrà anche il Ministro Bianchi. Alle 11 in diretta sul canale YouTube di Gazzetta del Sud, il primo degli incontri istituzionali di GDS Academy. Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi dialoga con i nostri studenti di Messina e di della Calabria, ma non solo, tante le autorità istituzionali che saranno presenti, le università, gli uffici scolastici, tutti coloro che ci accompagnano nel nostro percorso e che saranno lieti di salutare tutti i nostri ragazzi. E noi salutiamo anche quanti ci hanno seguito su RTP, su GDS TV e ricordiamo l'appuntamento in edificolo domattina con l'inserto Noi Magazine con Gazzetta del Sud. Grazie ancora, appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie a voi e un saluto e a domani.